Grazie al progetto di Via Manzoni facciamo anche oggi, come qualche anno fa l'abbiamo rifatto, una sfilata delle Fiat 500, grazie agli amici di Altamura, che è un'associazione di Fiat 500. 500 d'epoca addobbate a festa che sfilano per Via Manzoni rallegrando la domenica che precede il Natale. Un'altra tappa delle iniziative organizzate dall'associazione commercianti di Via Manzoni e dintorni per animare la storica strada dello shopping in vista delle festività. E non finisce certo qui, il 21 dicembre si prosegue con gli artisti di strada. Il 21 nel pomeriggio dalle ore 17 alle 20 abbiamo organizzato una sfilata di artisti di strada che faranno degli spettacoli dislocati su 8 marciapiedi limitrofi alla Via Manzoni. Vi do qualche dettaglio, Via Principia Medeo Angolo Manzoni, Via Dante Angolo Manzoni, Via Garuba Angolo Manzoni e vari isolati di Via Manzoni con le traverse Dante e Nicolai. Insomma c'è da divertirsi, invito tutti perché l'associazione dei commercianti vuole rendere viva la nostra strada e quindi ci stiamo impegnando anche quest'anno con i nostri progetti. L'invito della Presidente è quello di visitare le attività di Via Manzoni anche per godere dei presepi d'artista sistemati nelle vetrine in una sorta di mostra temporanea.